Sapete come si chiama questo quadro e chi lo ha dipinto? Il quadro si chiama La piccola carbonaia ed è un dipinto a olio su tela del pittore spagnolo Julio Romero de Torres, realizzato nel 1930. Attualmente il dipinto si trova al Museo Julio Romero de Torres, a Cordova. Quest'opera, realizzata poco tempo prima della morte del pittore, è considerata il suo capolavoro. Il quadro raffigura una giovane seduta su una sedia di legno e tifa mentre agita un bracere pieno di carbonella. La giovane è leggermente china e guarda direttamente lo spettatore. La spalla sinistra scoperta, le gambe coperte solo da un paio di calze lunghe. Le giarrettiere e i tacchi alti sono tutti degli elementi che creano un'atmosfera considerata erotica all'epoca e che si ritrovano nello stile di Romero de Torres. La modella del quadro si chiamava Maria Teresa Lopez, allora adolescente.